Gli uomini del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno ingaggiato una lotta serrata e senza esclusione di colpi contro lo spaccio della cocaina nella città di Fano. Dopo l'arresto del 38enne albanese ed il sequestro di 600 grammi di cocaina purissima e i primi di dicembre, è stato il quartiere di Bellocchi ad essere passato al setaccio negli giorni scorsi e ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 41enne campano originario di Torre Annunziata, residente nel quartiere dove viveva con la famiglia ma senza un'occupazione stabile. All'arresto si è giunti, grazie all'osservazione da parte degli uomini del reparto investigativo, dei movimenti di alcuni consumatori abituali di cocaina che spesso gravitavano nei paraggi dei giardini pubblici alle spalle della scuola elementare Tombari e in via Prima Strada. Diversi appostamenti e servizi in borghese hanno fatto capire agli agenti che c'era un punto di riferimento nella zona che causava tutto questo andi rivieni di cocainomani e ben presto lo hanno individuato nella quarantena. L'uomo, utilizzando alle volte una minicar o spesso anche a piedi, si spostava nei punti in cui si vedeva con i clienti in ogni ora del giorno. Ma nella giornata di giovedì scorso gli agenti del commissariato, capito che era il momento giusto, hanno fatto un blitz nella sua abitazione proprio mentre l'uomo era in procinto di uscire di casa. Il campano ha tentato la fuga dalla finestra del secondo piano della palazzina dove abitava ma i poliziotti non gli hanno dato il tempo avendo occupato tutte le vie di fuga possibili. Nella sua abitazione sono stati trovati 100 grammi di sostanza stupefacente nascosta nel forno di casa per un valore di oltre 10.000 euro, sostanza da taglio, bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. Le dosi che l'uomo confezionavano erano molto tagliate e quindi rendevano bene sul mercato ma la qualità però era bassa e quindi la sua clientela era una clientela di fascia media e di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Nella perquisizione dell'abitazione è stata anche trovata una dettagliata agenda, ora al vaglio degli inquirenti, in cui il quarantenne annotava nominativi, dosi e relativi incassi. Il dirigente Stefano Seretti ci conferma che la cocaina rimane uno dei traffici ancora più proficui nel mondo delle sostanze illegali e largamente diffuso, soprattutto nelle fasce giovanili. E quindi anche in futuro l'azione degli agenti del commissariato sarà sempre più incisiva e pressante a Fano per debilitare questa piaga. Lo spacciatore, ora processato per direstissima una volta convalidato l'arresto, è stato portato nel carcere di Villa Fastigi in esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice di Pesaro.